Avete una macchina, questo è il modo per trasportare le vostre ruote, tipo ruota di scorta. Allora ho cambiato la ruota dietro che praticamente il copertone era un 2.25x29, ho dovuto tagliarlo per estrarlo, ho installato un 2.0, niente, troppo grosso e allora siamo andati a sostituire con un 2.1 e adesso va via che è uno spettacolo. Qua ovviamente anche se siamo più piccoli di ruota il comfort non manca mai perché abbiamo l'ammortizzatore di sella e nel frontale continuiamo a portare il 2.25x29 che dà più comfort nella guida e più sicurezza in off ruota. Perfetto, allora dietro più piccola, più scorrevole, compensando con l'ammortizzatore di sella, stiamo riepilogando, davanti più grande, più confortevole, più grip in off ruota.